Le scuole al momento rimarranno aperte quanto emerso dal confronto che il sindaco Lucio Greco assieme all'assessore all'istruzione Cristian Malluzzo e a quello alla sanità Nadia Gnoffo ha avuto con i dirigenti scolastici delle scuole di primo e secondo grado e i vertici ASP. Il primo cittadino invita i genitori a non lasciarsi prendere dal panico e non seguire fake news diffuse sui social. I dati ufficiali parlano di contagi contenuti nelle scuole e di misure di contenimento che funzionano. Io comprendo perfettamente la preoccupazione, il disagio, l'allarmismo il più delle volte di molti genitori con questa situazione di grave emergenza sanitaria a causa del covid-19. Tuttavia non posso non esprimere la mia preoccupazione anche per comportamenti di taluni genitori che in maniera arbitraria, mi permetto di dire, stanno decidendo di non mandare i ragazzi o i propri figli a scuola. Questo non lo trovo giusto, devo dire che il sistema complessivamente ad oggi tiene e tiene bene e voglio dare i dati, i dati che sono ovviamente inconfuttabili perché sono dati numerici. Noi abbiamo numero 35 positivi di alunni complessivamente nelle scuole e 13 insegnanti. Tutti alunni e insegnanti in misura, devo dire, assolutamente contenuta che rispecchiano tutti i dati a livello nazionale e al di là di qualche collega sindaco che non voglio criticare ma certamente con questi provvedimenti extra ordinem di chiusura che sono le misure straordinarie che richiedono ovviamente situazioni straordinarie che al momento non abbiamo a livello locale, certamente non aiuta a mantenere serenità, calma e senso di responsabilità. Chiaro il riferimento al sindaco di Niscemi Massimiliano Conti che ieri ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole della sua città. Questa mattina intanto è arrivata una nota da parte dell'assessorato regionale all'istruzione che ricorda ai sindaci che la chiusura delle scuole va concordata preliminarmente con la regione e con l'ASP. Scuole aperte dunque almeno fino al nuovo ordine come conferma lo stesso primo cittadino. Ad oggi le scuole rimangono aperte, non escludo nei prossimi giorni qualunque tipo di intervento qualora questa situazione dovesse ovviamente peggiorare, ma ad oggi credetemi e lo dico dopo aver ascoltato ASP, dirigenti scolastici, dirigenti della prefettura, insomma il mio impegno, il mio lavoro si concerta e va nella logica di confronto con tutte le istituzioni a 360 gradi. Non sono il tipo di assumere provvedimenti in maniera estemporanea dettati dalla preoccupazione, dalla paura che ad oggi, ripeto, non ci deve essere.